Sarà il Palazzo della Provincia di Arezzo ad ospitare le udienze del maxiprocesso sul crack di Banca Etruria. La Sala dei Grandi così si trasformerà momentaneamente in un'aula di giustizia. La Presidente Silvia Chiasai ha infatti accolto le richieste del Presidente del Tribunale di Arezzo che si vede costretto a trovare soluzioni alternative alla vela per garantire la massima sicurezza sanitaria di tutte le persone interessate dal dibattimento. Il Palazzo della Provincia è in grado di garantire il rispetto di tutti quei requisiti per le norme anti-Covid-19 tra cui il necessario distanziamento sociale, afferma la Presidente. Ritengo necessario che non vi sia un'interruzione dei dibattimenti, per questo ho sentito il dovere di concedere la sede prestigiosa della Sala dei Grandi, luogo istituzionalmente deputato a rappresentare le nostre comunità come simbolo evidente di un ente che rappresenta la Casa dei Comuni sempre al servizio dei territori amministrati anche in riferimento alla dolorosa vicenda giudiziaria di Banca Etruria che ha coinvolto famiglie, risparmiatori, lavoratori ed imprese finendo per condizionare di conseguenza l'economia di un'intera provincia. Voglio ringraziare la Presidente Chiasai per averci concesso la prestigiosa Sala dei Grandi, ha dichiarato poi il Presidente del Tribunale Arettino, Valentino Pezzuti perché senza l'apporto della provincia non si sarebbe potuto continuare il processo non avendo a disposizione aule adeguate per l'emergenza Covid-19. Riprenderanno adesso così sia il processo sulla bancarotta con 25 imputati e bloccato ormai da settimane che quello riguardante il filone sulle consulenze d'oro rinviato proprio ieri al 4 marzo per consentire di proseguire in un altro spazio adeguato.